benvenuti alla nostra lezione di pilates gambe tese seduti in terra mani appoggiate in terra apro le braccia in fuori appoggio le dita e comincio a fletter le caviglie allungo le caviglie fletto le caviglie inspiro allungo e spiro fletto allungo e fletto allungo e fletto allungo e fletto tengo la schiena diritta e muovo bene le caviglie adesso sollevo le braccia avanti mi preparo fuori l'aria le braccia si sollevano in alto dentro l'aria riabbasso fuori l'aria sollevo dentro l'aria torno fuori l'aria sollevo dentro l'aria riabbasso ancora uno fuori l'aria sollevo e abbasso da qui metto le braccia conserte mi preparo per andare in torsione divarico le gambe fuori l'aria torsione del torace a destra dentro l'aria torno fuori l'aria sinistra e ritorno fuori l'aria destra e torno in centro fuori l'aria sinistra torno in centro richiudo le gambe riappoggio e scendo ad appoggiarmi sui gomiti apro bene le spalle e da questa posizione fletto un ginocchio alla volta al petto fuori l'aria e torno giù attivo bene l'addome il pavimento pelvico e torno giù fuori l'aria fletto il ginocchio e torno giù fuori l'aria aggancio bene l'addome e torno giù fuori l'aria fletto il ginocchio 7 torno giù fuori l'aria fletto il ginocchio 8 e torno giù mi rimetto seduto fletto le caviglie braccia tese in avanti e risollevo le braccia in alto fuori l'aria abbasso dentro l'aria fuori l'aria sollevo allungo bene e riabbasso avanti fuori l'aria sollevo e ritorno fuori l'aria sollevo e riabbasso mantengo la posizione appoggio le mani in terra torno ad appoggiarmi sui gomiti e comincio a slanciare le gambe alternate e slancio 3 e slancio 4 e ancora slancio quando slancio fuori l'aria e ancora slancio e slancio mi fermo ritorno seduto e allungo il busto avanti e rilasso senza scendere troppo col busto fletto la testa avanti e rilasso tutta la colonna vertebrale torno diritto e con calma mi giro e mi metto sul fianco gambe flessa 45 gradi avambraccio appoggiato inspiro sellevo il bacino ritorno fuori l'aria 2 e torno fuori l'aria 3 e abbasso fuori l'aria 4 attenzione alla spalla e da qui allungo le gambe mantengo l'avambraccio appoggiato e sollevo di nuovo il bacino 2 3 4 riappoggio e con calma cambio lato appoggio l'avambraccio gambe flessa 45 gradi mano sul fianco sollevo il bacino tengo bene l'addome ritorno sollevo 2 e torno giù sollevo 3 e torno giù sollevo 4 e torno giù ripeto con le gambe tese appoggiate bene il bordo esterno dei piedi in terra e sollevo e 2 ancora 2 e ancora 1 riappoggio in terra con calma torno seduto appoggio le mani in terra dietro il bacino con le dita rivolte verso il bacino apro bene le spalle inspiro sollevo il bacino espiro appoggio di nuovo il sedere in terra inspiro salgo fate lavorare le braccia e ritorno sbilanciate bene il peso del corpo indietro vado su e torno giù inspiro salgo espiro torno giù ancora inspiro salgo espiro scendo inspiro salgo mi giro e mi metto seduto anzi a carponi appoggio bene le mani raddrizzo bene la schiena piccola retroversione del bacino attivo l'addome sollevo una gamba tese indietro e ritorno fuori l'aria sollevo l'altra e ritorno e riparto fuori l'aria sollevo la destra contraete bene il gluteo e appoggio fuori l'aria sollevo la sinistra e appoggio fuori l'aria sollevo e mantengo la posizione allungo il braccio teso il braccio opposto teso avanti cerco l'equilibrio attivo bene l'addome e poi con calma chiudo mi sistemo mi metto a posto cambio gamba allungo tesa sollevo teso il braccio opposto cerco l'equilibrio attivo bene la muscolatura pelvica e l'addome tenete bene la pancia rilassate la faccia e il collo e torno giù da qui scendo in terra pancia sotto prono le braccia sono piegate gomiti ai fianchi mani sotto le spalle inspiro estendo il spingendo dalle braccia e ritorno inspiro fate lavorare bene le braccia ed espiro riabbasso inspiro estendo espiro torno giù inspiro estendo espiro abbasso inspiro estendo lavorate le braccia spiro torno giù allungo le braccia tesi in avanti un po più divaricate in modo da non sollevare le spalle sollevo braccia e gambo opposto 1 fuori l'aria 2 fuori l'aria 3 tenete l'addome attenti al collo 4 5 lavorate sulla muscolatura pelvica 6 7 e 8 da qui ripiego le braccia mi do una spinta ritorno in ginocchio mi siedo sui talloni allungo bene la schiena allungo 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 rilassate tutta la colonna vertebrale poi vi mettete seduti e vi rilassate noi ci vediamo alla prossima puntata grazie